Tragico investimento questa mattina a Guanzate. Un uomo di 67 anni, Mario Papalucca, residente in paese, è stato travolto da un'auto intorno alle 10.30 in un'area di sosta in Viale Somaini ed è morto. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, tanto che i soccorsi sono stati allertati con la massima urgenza e sono usciti in codice rosso. Sul posto sono arrivati un'ambulanza da Lomazzo e una da Como ed è stato allertato anche l'elisoccorso. Il 67enne è stato trasportato all'ospedale Sant'Anna di Sanfermo della Battaglia ma non ce l'ha fatta. L'uomo sarebbe stato investito da un'auto nel parcheggio ma la ricostruzione della dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Sul posto i carabinieri di Cantù e gli agenti della polizia locale che hanno effettuato tutti i rilievi e gli accertamenti del caso per chiarire la dinamica e le cause dell'incidente. La salma è stata posta sotto sequestro dell'autorità giudiziaria.